Si chiama Terapie Mirate per Ossessioni Consapevoli e la mostra fotografica che sarà possibile visitare nel fine settimana presso Palazzo Stampa ad Abbiategrasso. A cura della fotografa Marzia Rizzo, la mostra collettiva che nel weekend di apertura ha registrato già 500 ingressi e inserita all'interno del programma Fotofestival Milano. Terapie Mirate per Ossessioni Consapevoli è un titolo che nasce durante un mio corso fotografico, anzi in realtà sono due corsi fotografici perché gli autori, 16 autori che sono in mostra, sono proprio i miei allievi. Le ossessioni sono delle idee mentali spesso associate all'ansia, in realtà l'ossessione è anche un motore e in questo caso è stato il motore della mostra fotografica perché dalle ossessioni dei singoli autori sono nati i progetti. Sono 16 autori, 16 artisti in esposizione. Ogni artista ha un progetto personale, spesso questo progetto è nato dal dialogo di tutto il gruppo, c'è stato un brainstorming e in questo caso la cosa principale è che si sono messi in gioco gli artisti. Quindi ci sono tanti autoritratti e autoscatti e soprattutto possiamo notare all'interno del percorso vari segnali, varie sensazioni e emozioni. Il percorso è sicuramente emozionale, dato non soltanto dall'immagine visiva ma anche dai suoni e da dei percorsi originali. Quindi c'è un'installazione particolare per ognuno di loro, un'installazione che deve evocare l'ossessione allo spettatore. Grazie.